e bella a tutti ragazzi oggi vi farò vedere come ottenere il piccone dito che vedete l'accanto a mio fratello allora prima cosa bisogna andare esattamente qua dove ho pingato di blu poi devi essere a livello 8 pass battaglia e poi vai qua in questo caso io sono da switch e mi pare di y oppure di play quadrato poi eccolo qua dimostrato valore solamente di raccolta ok e vabbè allora ci vediamo in video del genere quando vi porterò altri video del genere quando arriverò ad altri livelli dove posso avere o stili o cose e bella